...non esattamente turistico, ma un periodo che è in balla ed è sicuramente legato a Dara. La posizione delle nostre corse ci permette di fare questo, ne siamo veramente felici. Per quello che riguarda l'organizzazione del legato, noi possiamo fare una cosa che è molto semplice. ...in intervinto al comando della grossa, il quale è spiegato, il quale è inizia. ...in intervinto al comando della grossa, il quale è spiegato. ...numero 25, Serena, Semoli, Cesco, Limpia, Aldanese. Avete avuto scopo? ...quindi un'altra vittoria per la Toscana, anche stamattina abbiamo già stato fatto la vittoria per la Toscana. ... ...